Luceo Battisti cantava i giorni di marzo, non siamo a marzo, però finalmente comunque è un bel giorno perché i residenti lo aspettavano da tanto, noi l'avevamo promesso. Abbiamo fatto un incontro di quartiere, eravamo su all'Arcitorma, era un incontro anche tosto perché allora si parlava della realizzazione del palazzetto dello sport, alcuni residenti temevano che portasse troppo a causa, cosa che non è successa. Abbiamo detto che l'obiettivo sarebbe stato quello anche di riqualificare questi giardini che come sappiamo non erano in gestione comune, sono stati per tanti anni in stato oggettivo di abbandono, di non curanza e giustamente i residenti se ne lamentavano. Oggi è un'area bellissima, adesso vediamo un pezzo, poi anche dall'altra parte del palazzetto c'è l'altro pezzo e sono davvero diventati un posto per tutti, sicuro, abbiamo messo tanta luce, adesso arriveranno anche i cestini perché ho visto che mancano, ma sono stati ordinati, le panchine, la lunetta da basket, lo spazio per i bimbi, dei percorsi, l'illuminazione, insomma è un parco nuovo, di fatto un giardino nuovo per la zona sud della città oltre che per il quartiere e naturalmente dobbiamo tenerlo curato bene perché farli è un conto ma curarli tutti i giorni è l'impegno che poi ci dobbiamo mettere, però ce lo mettiamo e insomma un altro pezzo, un altro pezzo fatto, un'altra promessa mantenuta e passo dopo passo tutte le aree della città le stiamo riqualificando. Questo intervento esattamente porta servizi, il palazzetto ha portato servizi, ha portato un pezzo di utenza della città in questo quartiere, ne aveva bisogno e questo intervento ha detto che recupera il verde, recupera un verde che era in stato abbandono, un'area giochi, un'area, una lunetta per il basket, insomma quello che state vedendo è un intervento di recupero ma anche di riattivazione delle attività, dei servizi della nostra città. Siamo partiti praticamente da zero, abbiamo rifatto tutto, partendo dall'impianto di irrigazione siamo collegati a un posto e quindi abbiamo fatto un impianto di irrigazione dell'area e credo che anche il verde che ci circonda lo dimostra, abbiamo fatto nuovi percorsi che collegano con l'altra parte del quartiere e con il lato opposto della palestra. C'è un nuovo impianto di illuminazione, ricordo che abbiamo messo 13 punti luce, nuove alberature, 35 nuovi alberi, abbiamo messo anche una siepe che maschera il parcheggio della palestra più ovviamente nuove panchine, l'area giochi, questa qua è un'area per i giovani, dall'altra parte abbiamo messo il gazebo, l'area per chi insomma fosse un po' meno giovane ma sappiamo che era molto richiesto e devo dire che già oggi è molto utilizzato. È un intervento importante, un'area importante in cui il Comune investirà altre risorse per fare altre pubbliche perché abbiamo preso nuove, ricordo il quartiere del Pinqua dove investiremo complessivamente circa 20 milioni di euro.